Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video dei cinghielli sul tubo Sono Vessor e non sono da solo, insieme a me c'è Tarabuso Un saluto E Griffias Salve a tutti Pensavo dicevi due saluti e invece è rimasto con un saluto Questa schermata nera con create a new player e play Non è un quitte in basso a destra È semplicemente la schermata del Diamante a creare un nuovo personaggio Del The Life is Feudal Da notare come è cambiata graficamente Ha fatto un bel salto Da come era prima a adesso Per prima intendo già un paio di mesi fa Da lì, da quando è uscito fino a un paio di mesi fa La creazione del personaggio era quasi insignificante Se non per dare i punti statistica Invece adesso Ha un senso Perché finalmente possiamo creare tutto E andiamo Intanto vado a creare il mio di personaggio Siamo in un server europeo Dove in questo momento ci sono sulle 22 persone Abbiamo optato per questa scelta Perché Ci sembrava più Appropriato giocare dove c'è molta Molta gente Non sento niente Non sento le voci Ciò mi fa piacere Razza Vediamo se cambia Sì cambia anche la razza La razza cambia Sì Della apparenza del volto Però mi sa di no Solo i capelli si possono cambiare per ora Vado a vedere Eh sì La testa infatti non la fa cambiare Solo i capelli Anche la barba Non cambia nulla O la sta caricando O non mi cambia nulla Ah no Facial Fiatus ce l'ha vuote Capelli vediamo Magari ecco se glielo imposto Allora Scegliamo No troppa barba Ma sì così Lasciamolo in questo modo Colore Sempre più chiaro Immagino Oh così Skin Tone Lasciamo questo È abbastanza particolare Attributi Oh gli attributi Non me li ricordo più Voi vi ricordate qualcosa Sugli attributi Che impostavano Assolutamente niente Io mi ricordo Vabbè A me mi serviva L'intelletto Ho visto che ho sempre fatto Un'attivista Il raccattaerbe Sì esatto Il raccattaerbe Il raccattaerbe Il raccattaerbe Costituzione mi sembra Era quello per il terraforming Che però saliva bene Abbastanza di suo Mi pare Giusto Sì Alla fine Sì non è che cambia Io allora Sero un po' la forza Prima l'unica cosa L'unica cosa Mi ricordo Erano le skill Per Cavalcare Che poi se di uno Dopo per combattimento Mi sembra l'unico All'inizio Perché c'era sto bug E se no Non si poteva farle salire Però per il resto Ma ora adesso c'è Perché ora possiamo Cavalcare Possiamo C'è anche il trade Finalmente Si smette di tirare Con le cose in terra La gente deve raccoglie Insomma hanno aggiunto Parecchie cosette Ma le crafting skills Prima c'erano Che si potevano Aumentare all'inizio Sì sì C'erano A proposito di crafting skills C'erano sì Ma si potevano aumentare All'inizio Sì sì Si potevano aumentare Sì Come ci dividiamo A crafting skills Vabbè Vi farò come al solito Il mio solito Forestry A bestia Ok Che sei forestry Non da flora che serviva No Ci mancherebbe il buon Molatus Con prospecting Poi lo sentirò Se vuol venire A prospettare con noi E Naturus lore Terraforming E farming Io farò Terraforming Me lo alzo da solo Veramente Non ho grossi Grossi problemi In questo caso Vabbè Alzerò un po' Terraforming Intanto ci sono un po' Di punti che si possono mettere Prima che abbassano Le altre statistiche Ecco Lasciamolo così Combat skill Lascio com'è Intanto poi Volendo uno Durante il gioco Se le può tranquillamente Fare abbassare E aumentare altre E andiamo su play Va detto che Ci sono anche Dei server italiani Che sono anche Discreti Però Ora Per il video Abbiamo optato Per questa scelta Se le conoscete Qualche di uno Scrivetelo Nei commenti Noi volentieri Ci veniamo a giocare Alcuni Hanno bisogno Di una iscrizione Di iscriversi Nel forum Per avere la password Quindi accedere Al server Molti dei server Sono divisi in regioni Dato che ora Possiamo dividere La mappa del gioco In zone Questa fu introdotta Mi sembrava qualche patch fa Non mi ricordo il numero Spero di riuscire Sto ancora caricando Sì patchword Uno di nove Bestia Eh ci vuole Oh bene Qui c'è già gente Quindi direi di andare di qua Ti hai già caricato Maledì Sì io sono in loading Perché io sono stato un tempo Il quarto di due ore fa Ah ecco Ok Entering Eccomi Ah con la c Mi vedo esterno Io mi sono fatto Pallido In una maniera Indecente All'interfaccia Mi sembra uguale a prima Non noto grossi cambiamenti No l'interfaccia è uguale Sì non è cambiato niente C'è la cosa che dovevano cambiare Prima di tutto Porco c'è Io non mi ricordo più Quando erano tasti Allora Co-E c'era l'inventario Sì Eccolo qua L'inventario Il personaggio E ti faceva vedere le statistiche Ma anche l'inventario è sempre uguale Odioso Con quale tasto erano Le statistiche Copì Copì ti fa vedere Le statistiche Il personaggio E L mi sembra Sì L e le skill craft Ok con L e le skill Che ora dovrebbero essere attive un po' tutte Manca qualcosina da attivare ma Buona parte dovrebbero essere attive Farming l'ultima volta che ci abbiamo giocato noi Madonna santa non ho bestemmia Perché Sono buggato Dalla cattura Sì è vero All'allevamento Sto guardando che molte cose sono finalmente funzionanti E è un gran piacere Allora prima cosa da fare è trovarci Voi dove siete? Eh io sto ancora entrando Allora Però per indossare gli oggetti Mi ricordo c'era Che tasto era? C'era quindi la P Ah bisognava mettere l'imisal brosso e poi usarlo Sì no ma non mi ricordo qual è l'altro tasto Per indossarli O? Oltre a cliccarci con il tasto destro Non mi ricordo qual è il tasto Ehm Madonna brutta sta casacca Eh non lo so Puc che io sono in alto a sinistra Boh anch'io So vicino al lago tipo Eh no io proprio vicino no Però so in alto a sinistra C'è una cosa buona che ci siete anche voi Sto provando tutti i tasti Io sicuramente sarò in basso a sinistra Eccolo Con la T In alto a sinistra Con la T si fa Ah la T è vero Ecco le vengono Oh ora si ragiona Allora cominciamo Allora ci vediamo al lago? Vai Vado verso il lago Che sicuramente è pieno di gente che ci ucciderà Ve lo saprò dire quando entro Come si faceva a zoomare nella mappa? Eh devi premere Tab Ah ecco tab E poi più E ti viene il mouse Ok Oppure la rotellina del mouse Insomma scorre Sia mai che ci sia qualcosa che non è meccanico in questo gioco No figurati Tutto così liscio Evo soprattutto Fanno di tutto Fanno di tutto per renderti la vita complicata Poi no quando si era iniziato non esistevano guide di nessun tipo Quindi No era pure inutile andare a cercare Sì informazioni Delle cose E' stata Una 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 Madonna Adesso invece almeno è Un po' più famoso E anche abbastanza più L'hanno visto anche più semplice In programmatoria Io mi ricordo solo per costruire le mura Cos'era quell'erba Non mi ricordo nemmeno se era un'erba Ah che bisogna fare il flacc Il flacc Adesso l'hanno semplificata per fortuna All'epoca era una cosa Impressionante Dicevo paginate e paginate intere di ricette Sì Griffith si era segnato tutto Da buon notaio Che non è Combinazioni Che non sono Esatto L'hanno resse pure casuali Che oltretutto E appunto Infatti erano Solo per quella partita Perché ricominciando ora Tutto il lavoro fatto E' totalmente Ovviamente E mi ricordo A una certa ci si era messi pure noi A raccattare l'erba Perché se no da solo Ci si stava dietro È impossibile Uno dei beni più commerciati infatti Perché in Cianti Si sentiva solo gente che lo voleva Allora io sono Al lago Perché l'alchimista è il lavoro più merdoso E chi lo fa Lo faccio io Sì E io sono arrivato quasi al lago Anch'io Ho ideo a levare coniglie E raccattare la cacca dei polli Vogliamo far cambio? No no grazie Io preferisco fa Il costruttore Tom Poi li posso appallottolare E portarmi a giro Allora Vediamo dove sei Faccio una montagna di Io sto facendo ora capolino Un stirco radio gigante Allora mi sono messo a impostare la grafica Sto giocando con cose Sicuramente basse Poi ci controllerò Sono impostazioni basse Allora vediamo un po' Io sto al lago Io ho messo tutto ultra Vediamo se me lo regge Ma regge lo regge Tranquilamente Il problema è la lago No se l'hanno ottimizzato Eh esatto Guarda voi lo problema Per questo anche io C'ho messo A me A me No forse all'inizio All'inizio mi dava problemi Poi dopo già Dopo le prime patch Non mi Non mi viene più Tanti problemi Graficamente Dove sei? Non lo so Sto ancora entrando No no Io sono sul lago Anch'io sono sul lago Allora sono nella parte In alta a sinistra io Eh esatto Anch'io Dove c'è un Come te lo dico Ma pure Sei sulla spiaggia Andiamo proprio sulla spiaggia Sì sono sulla spiaggia proprio Sto camminando sull'acqua Sto correndo nella direzione Verso l'alto Per capire Tu fermati in un punto Eh si sto andando a tutto Ti sei più verso l'alto O più verso il centro? Sto più verso Nord Nord Perfetto Ok Allora fermati lì Punta più A nord Del lago Dovrei raggiungerti A regola Dai 8 e 9 Eccoti Eh ti vedo Ti vedo Ti vedo Vediamo un po' come sei Io sono un uomo molto bello Affascinante Te lo dico Nero ovviamente Perché ormai ti Sono molto meglio di te No stavolta no Eh ma allora Tarabuso Shin Ah come sei elegante Tarabuso Shin Anche te sembri un bambiro Ma come sono belli i tuoi baffi Siamo tutti albini Mi sa Allora Bene Quando Gioco Permetterà a Mirko Di giocare Si unirà pure a lui Prima l'avventura Per bene Come osi rivelare Vediamo altre cose Che altro c'è da dire del gioco Perché poi volevo chiudere il video Non volevo farlo lunghissimo Intanto era più che altro Una prima impressione Per vedere quello che hanno Migliorato Insomma il gioco sicuramente Scorre meglio Su questo non c'è dubbio Io non ho avuto quei blocchi Di ogni Di 10 secondi Che le P Lug spike Che capitavano di volta in volta E sono riuscito a entrare E il gioco scorre molto meglio Non c'è da aspettare un anno Prima di entrare Al posto per Tranne che per Griffias Ma questo è importante Che succeda a lui Oddio Sono accanto a un tizio No non sei accanto a noi Non siamo noi Siamo gatti in giro Meno male la di spalle Se ne sta andando È un certo Leo Leo Gard No non è amico nostro Vabbè Dunque Un qualche inglese Voi dove eravate? In alta sinistra In alta sinistra E tu sarai in basso a destra Anche il laghetto Anch'io Anch'io Allora mi avvio verso il lago Ok Aspettiamolo qua L'interfaccia poi Così diceva comunque È rimasta la stessa Non ci sono Cambiamenti rilevanti Infatti Sempre oscena Però sicuramente Va molto meglio Vedo anche un microfono In basso a destra Sì Sì Non so come si attiva Bisognerà guardare Eh sì Però ecco Già che hanno Aggiunto pure Stavosto Non è una cosa malvagia Io comincio a tanto Raccatto a qualche cosina La skill come va So che hanno migliorato Anche le skill Che adesso Da Fino al 30 Vanno abbastanza velocemente Scalano un po' Dal 30 al 60 Dal 60 al 90 Procedono normalmente Come erano prima E dal 90 al 100 L'hanno resa più difficile La skill Bene Anche perché va considerato Che il gioco nasce Anche perché va considerato che il gioco nasce con 600 punti Se non dico una cavolata A testa Poi ogni serve ovviamente alla sua impostazione Però serve per specializzare su una sola professione Quindi favorire il social Favorire il mercato Infatti se siete un gruppo alto Questa cosa è ottima Se giocate in solitari Eh sì Con 600 punti fate veramente poco Una professione Se guardate Con 500 punti Calcolate 100 punti O 100 punti a linea Ne servono 500 Me ne avanzano 100 Da mettere qua Una cosa va da dire Che è vero che ci sono due pagine Ma le 600 valgono per entrambe Cioè 600 punti qua 600 punti di qua Sia nel combat Che nel crafting In questo caso come vedete 1000 dice Vedi che infatti cambia il punteggio Qui è 119 Qui è 100 Ok con questo direi che possiamo chiudere qua il video Mentre aspettiamo il buon Griffias Fateci sapere se vi interessa vedere altri video Su Life is Feudal Se no vedremo di aggiornarlo di patch in patch Se ci sono altri aggiornamenti O se riusciamo ad andare avanti A rendere il gioco Magari un'esperienza piacevole da far vedere Sì Ci vediamo Per lo più saranno Dimmi Griffias Per lo più saranno Saranno un'esperienza di crafting Via Perché comunque È il gioco concentrato molto sul crafting Sì esatto In PvP viene fatto diciamo A livelli un pochino più alti Di quando uno si è già creato tutto Eh sì all'inizio ti crei comunque il tuo accampamento E dopo inizi a esplorare A intrecciare rapporti con i vicini Che non sempre magari sono piacevoli Da lì che sbucano le lotte in PvP Esatto A presto Ci vediamo Ciao a tutti Ciao 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 c'è 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 Ciao c'è